A nettere campione d'Italia al Ticino, un'ipotesi sulla quale sta iniziando a discutere il governo elvetico. Campionesi e non divisi sul tema, c'è chi pensa che l'annessione alla Svizzera potrebbe salvare il paese dalla crisi che sta attraversando, chi invece vuole restare italiano, chi infine afferma che la Svizzera è sempre stata pronta ad aiutare campione a differenza dell'Italia. No, io non ci credo che si stia discutendo all'interno del governo elvetico addirittura, siamo forse noi di campione che ci illudiamo di poterci annettere alla Svizzera, che è una cosa che forse pensiamo da sempre. Io sono nativo di Roma, vengo da Roma, sentirmi Svizzera all'improvviso non lo so, però sì, perché no? Sinceramente è tutto possibile, perché no? Why not? Penso che è un certo interesse, ce l'era già stato nei secoli passati, non vedo perché oltretutto in tempi moderni questa cosa non potrebbe in una situazione del genere interessare maggiormente sia i campionesi indubbiamente, ma anche il governo elvetico. Io dico che la Svizzera nella guerra, quando non arrivava niente dall'Italia, ci ha mantenuto e non siamo morti di fame per la Svizzera. Ciò non toglie che io mi senta profondamente italiano. Sì, certo. Per quale motivo? Per tanti motivi validi, non è solo un motivo casino, sinceramente. A me piacerebbe, a me personalmente piacerebbe. Io vivo in Svizzera, comunque in realtà noi siamo già in un territorio svizzero. Contribuiamo nel nostro piccolo, abbiamo le targhe svizzere, la patente svizzera, le assicurazioni svizzere, quindi sicuramente mi piacerebbe, credo che sia molto infattibile. Io no. Per quale motivo? Perché sono italiano io. Io vivo in Svizzera